Il Comune di Anna Marina, Lucio, è una manifestazione che è partita dall'idea di consiglieri e presidente del consiglio, oggi si è sviluppata in questa maniera, io credo che il grazie a tutti sia fondamentale. Ci tengo a dire che è un periodo natalizio, pertanto è un periodo dove tutti si è impagnati a mangiare il panettone, abbiamo fatto questo scopo di divertimento che è una manifestazione di carattere sportivo che diventa anche utile, quindi sociale, perché stiamo aiutando una persona che non dimentichiamoci che ha subito una tragedia durante una festa e prese, pertanto Imperia se la deve ricordare anche durante le feste natalizie. È fatto il 27 di dicembre, quindi dopo Natale e Santo Stefano, credo che sia anche un dato obiettivo che si chiede l'impegno degli imperiesi, tutti a partecipare e essere numerosi. Un grazie, ma sicuramente anche a Nico Zanchi che grazie alle band e alla disponibilità di Imperia Musicale, questo gruppo che ha fondato e sarà presente anche quel giorno lì per l'offerta e l'acquisto dei cd, tutto devoluto a Salvagna. Credo che sia importante, quel giorno lì abbiamo le forze dell'ordine che ringrazio e che parteciperanno, almeno sono anche già lì, così se avessi potuto fare una rissa per noi, come erano brutto. Mi auguro che veramente gli imperiesi partecipino perché a fine poi tutti quanti, a prescindere dalla politica, le forze dell'ordine, tutti per una situazione del genere ci hanno messo il cuore dentro. Il cuore è una parte che tutti noi abbiamo e su un avvenimento del genere non bisogna guardare in faccia nessuno.